Per la prima volta siamo qui presenti a Servizio e Retetour e presentiamo un nuovo tipo di strumento che si chiama Pastel UP ed è uno strumento innovativo, è uno spettrofotometro ma a differenza di tutti gli altri non ha bisogno dei reagenti per poter fare le analisi. Questo nuovo strumento in soli due minuti permette di determinare i valori di COD, BOD, tensioattivi anionici, solidi sospesi, nitrati in soli due minuti, il tutto appunto senza i reattivi. È una strumentazione innovativa, molto rapida, che si basa appunto sulla deconvoluzione spettrale.